Sono scesi in piazza Roma i sostituti alla guida dei taxi contro la decisione del comune di pubblicare un bando che metterà in paglio mille nuove licenze taxi a titolo oneroso nella capitale. Si tratta di lavoratori precari che attendono da anni di poter diventare titolari di un'auto bianca. Secondo i sostituti alla guida, il bando per il rilascio delle nuove licenze potrebbe escludere di fatto proprio loro che rappresentano i precari del settore taxi, poiché ogni licenza avrà un costo di circa 73 mila euro, quindi anche chi ha i requisiti per vincere potrebbe poi rinunciare alla licenza per una questione di disponibilità economica. Erano circa un centinaio i manifestanti che si sono radunati in piazza del Campidoglio con striscioni e slogan per chiedere un incontro al sindaco Roberto Gualtieri, come promesso loro lo scorso 25 giugno, e le licenze hanno spiegato siano gratuite. Il Comune, secondo il Presidente del Comitato Sostituti alla guida dei taxi di Roma, Paolo Maciocci, ha deciso di rilasciare mille nuove licenze a titolo oneroso a 73 mila euro, di fatto escludendo dal bando i precari del settore che non hanno l'accesso al credito per comprare questa licenza.